È il momento di comprare o vendere casa? Rispetto a 30 giorni fa la situazione è molto cambiata. Per esempio su Google le ricerche erano praticamente azzerate per quanto riguarda i termini immobiliari. Pensate che adesso, nelle ultime settimane invece, la parola agenzia immobiliare è raddoppiata nelle ricerche. La parola comprare casa è ricercata 8 volte in più. La parola vendere casa è cercata 10 volte in più. Insomma, segnali importanti. Anche noi abbiamo dei segnali importanti perché abbiamo fissato o fatto nelle ultime settimane 3.000 appuntamenti vendita. Abbiamo preso incarichi di vendita di immobili per circa 600 proprietari. Insomma, c'è grande voglia di continuare a portare avanti i propri progetti. Quello che sarà il nostro mercato del futuro è un mercato fatto di progetti, un mercato fatto di esigenza. Ognuno di noi ha voglia e la volontà di portare avanti i propri progetti. E quello che accadrà nel prossimo futuro sarà proprio questo. Chi comprerà e venderà a casa è perché ha un progetto. Io resto produttivo.